50 anni fa, per un anno e alcuni altri successivi, sono stato anche un'altra persona, sono stato straccio. Ancora da studente medio, come si diceva, ancora dai banchi da scuola, occupavamo le scuole, scioperavamo con i più grandi, con i cugini più grandi dell'università. Perché il voto, le interrogazioni, l'esame sono secondo voi ingiusti? Perché a noi non servono, servono soltanto i professori per giudicarci. Noi andiamo a scuola per imparare, non per essere giudicati. Quegli anni sono stati confusi, c'era chi veniva da un'esperienza cattolica, chi veniva da un'esperienza marxista. Io per esempio venivo e ho trovato più simpatia per una componente che non era né marxista né cattolica, era una componente situazionista, con un gruppo di amici molto impegnati, anche dal punto di vista culturale, su questa terza posizione, su questa diversa posizione, su questa posizione non dogmatica, facevamo parte di un gruppo, gli uccelli, che si mosse in quei mesi, soprattutto nei primi mesi delle occupazioni dell'università, soprattutto nella facoltà di architettura, ma non soltanto. Io...